Nel video di quest'oggi leggeremo in traduzione italiana e commenteremo insieme i capitoli 53 e 54 del De Catiline coniurazione, la congiura di Catilina, di San Gustio. Il video di quest'oggi completa una breve serie di tre video, tra parentesi vi scrivo in descrizione i due link al primo e al secondo video, tre video nei quali abbiamo preso in considerazione alcune pagine di un capolavoro della storiografia romana, la congiura di Catilina di San Gustio. Prima abbiamo commentato insieme il capitolo 51 nel quale sentiamo parlare Giulio Cesare in Senato, poi nel secondo video, abbiamo commentato il discorso in Senato di Catone Luticense, che troviamo nel capitolo 52 dell'opera sallustiana. Quest'oggi vediamo come va a finire il problema, prendendo in considerazione prima il capitolo 53 e poi soprattutto, molto bello, il capitolo 54, nel quale l'autore sallustio fa una sorta di ritratto doppio e descrive con parole sue questi due grandi leader politici, Cesare per la sinistra, per i populares, e Catone Luticense per la destra, cioè per gli ottimati. Andiamo però con ordine e vediamo innanzitutto il capitolo 53 in traduzione italiana. Ecco avvo il testo. Non appena Catone si fu seduto, tutti i consolari e gran parte dei senatori elogiano la sua mozione, portano alle stelle la sua fermezza, si scambiano parole offensive, si chiamano l'un l'altro vigliacco, giudicano Catone grande, illustre, e il Senato approva un decreto conforme al parere da lui esposto. In queste prime frasi riusciamo a capire che cosa succede dopo i due discorsi contrapposti, quello di Cesare e quello di Catone. Alla fine prevale la mozione, l'ordine del giorno, diremmo noi oggi, della destra dell'epoca, cioè degli ottimati, e si decide di condannare direttamente a morte, senza possibilità di appello al popolo, quei cinque catilinari che sono stati arrestati nei giorni precedenti per volere del console Cicerone. Dunque per loro scatta la condanna a morte, forzando un po' il testo della legge in vigore in proposito a Roma all'epoca. Osservate peraltro un dettaglio. La discussione in Senato deve essere stata comunque molto agitata, e addirittura si arriva a male parole fra alcuni senatori. L'espressione è questa, si scambiano parole offensive. E poi a questo punto il narratore Sallustio procede in questi termini. In me, nel leggere o nell'udire narrare le gesta magnanime del popolo romano in pace e in guerra, in mare e in terra, esorta la curiosità di indagare sulle forze che l'hanno sorretto nel compiere imprese così ardue. Sapevo che varie volte, con esigui manipoli, cioè con pochissimi soldati, aveva affrontato ingenti forze nemiche. Conoscevo le guerre combattute con scarsi mezzi contro re vecchissimi e i colpi della fortuna sopportati e l'inferiorità romana di fronte ai greci per l'eloquenza, ai galli per la forza militare. E mentre riflettevo a queste cose, mi convincevo che era stato lo straordinario valore di pochi a compiere quelle azioni egregie, a far sì che poveri vincessero i ricchi, pochi le moltitudini. Come vedete qui, Sallustio passa, diciamo così, dal particolare al generale. Dopo aver dedicato molte pagine alla descrizione di un fatto storico preciso, minuzioso, puntuale, la congiura di Catilina, allarga il proprio obiettivo alla storia romana più in generale. E sembra come chiedersi come è stato possibile che i romani, che all'inizio erano così pochi, abbiano avuto modo di creare un impero così forte, così gigantesco. E prosegue con queste considerazioni. Quando la popolazione fu corrotta dal lusso e dall'ozio, la Repubblica con la sua potenza riuscì a non soccombere, adonta dei vizi dei generali e dei magistrati. Ma poi, quasi fosse divenuta sterile per aver dato la vita a troppi figli, per lungo tempo Roma non produsse un solo uomo veramente grande e valoroso. È molto particolare il modo con il quale Sallustio osserva la storia. Vede la storia romana come una sorta di, per così dire, lunga decadenza, o meglio, Roma inizia da umili origini. Poi, sulla base delle proprie virtù civiche, riesce a costruire un grandissimo impero virtuoso. Poi, con il passare del tempo, la situazione comincia a decadere e il vizio, la corruzione, si diffondono nella società e colpiscono un numero di persone e di uomini politici sempre maggiore. Addirittura si dice che dopo secoli di grandi uomini, Roma non riesca più a partorire, a far nascere, nessun uomo degno di questo nome, però con un paio di eccezioni. Sentite quali. Ai miei tempi ve ne furono due eccelsi, benché di carattere opposto, Cesare e Catone. E poiché l'argomento gli ha posti innanzi, non ho voluto passarli sotto silenzio. E se mi basta l'ingegno, vorrei descrivere dell'uno e dell'altro l'animo e i costumi. Quindi, in questa sorta di decadenza continua, di decadenza morale, che ha colpito l'impero romano, all'epoca di Sallustio, dice lui, ci sono due grandi eccezioni, che sono per l'appunto Cesare e Catone, dei quali, nelle settimane scorse, abbiamo sentito i discorsi in Senato. Osserviamo una cosa importante. Sono due leader, sono due esponenti molto importanti di rilievo, ma di partiti opposti, o meglio, di fazioni politiche contrapposte. L'uno, Cesare, diremmo noi oggi di sinistra. Viceversa, l'altro, Catone, diremmo noi oggi di destra. Non importa, sono due cittadini virtuosi. Hanno, come vedremo, alcune caratteristiche importanti in comune, condividono alcuni valori fondanti della Repubblica Romana, e poi, come ovvio, hanno anche caratteristiche e virtù che li rendono unici e che li rendono molto diversi l'uno dall'altro. Ed eccoci arrivati al capitolo 54 della congiura di Catilina, una delle pagine più famose che spesso si commentano a scuola di quest'opera, il ritratto doppio, potremmo dire così. Cesare e Catone a confronto non più con le loro parole dirette, ma con le riflessioni del narratore, dello storiografo Sallustio. Ecco a voi il testo del capitolo 54. Dunque, per la nascita, l'età, l'eloquenza, più o meno si equivalevano. Il soggetto sottinteso ovviamente è Cesare e Catone. Avevano dunque almeno tre cose in comune. La nascita, sono nobili entrambi. L'età, più o meno erano nati anno più anno meno nello stesso momento. L'eloquenza, entrambi erano in modo diverso, ottimi oratori in pubblico, più o meno si equivalevano. Non solo. Eguale la grandezza dell'animo e la gloria, ma nelle altre cose diversi. Dunque hanno cinque cose in comune. Nascita, età, eloquenza, grandezza d'animo e gloria. Poi, come è ovvio, sono due persone diverse, hanno idee politiche contrapposte, in molti aspetti invece divergono. Vediamo in quali. Cesare, tenuto in gran conto per la generosità, la larghezza. Catone, per l'integrità della vita. Il primo, salito alla celebrità per l'amitezza e la clemenza. Il secondo, per il rigore. Cesare ha raggiunto la fama a forza di donare, soccorrere, perdonare. Catone, con il non concedere mai nulla a nessuno. L'uno il rifugio dei poveri, l'altro il flagello dei malvagi. Di uno era lodata la condiscendenza, dell'altro la fermezza. Cesare, infine, si era proposto di lavorare, vigilare e per tenere dietro agli interessi dei suoi amici, trascurare i propri e non rifiutare mai nulla che valesse la pena di regalare. Ambiva a un comando importante, a un esercito, a una guerra nuova, nella quale potesse emergere il suo valore. Catone era incline alla modestia, al decoro e soprattutto all'austerità. Non gareggiava di lusso con i ricchi, di influenze con gli intriganti, ma di valore con il prode, di riservo con il modesto, di integrità con l'onesto. Preferiva essere virtuoso che parerlo, e di questo passo quantomeno inseguiva la gloria, tanto più essa lo seguiva. Avrete notato come in questo breve confronto in fondo tutto sia giocato sulla base di un'unica grande figura retorica di fondo, che è l'antitesi. La contrapposizione fra caratteri differenti, valori diversi, priorità diverse fra i due personaggi, Cesare e Catone. Cesare si contraddistingue innanzitutto per l'amitezza, per la clemenza, per la capacità di perdonare i propri oppositori, i propri nemici, virtù che lo renderanno famoso negli anni successivi, quasi proverbiale. Dall'altro lato invece Catone è celebre per l'onesta morale, per il rigore che in certi momenti diventa addirittura intransigenza dal punto di vista etico. Però volevo concludere questa lettura mettendo in evidenza soprattutto l'ultima frase, la rileggiamo assieme. È applicata certo a uno solo dei due, che è Catone, ma forse la possiamo estendere ad entrambi, e più in generale, Sallustio forse direbbe, a tutti i grandi personaggi della storia romana. Secondo lui Catone e Cesare sono stati gli ultimi due di una lunga serie. E la virtù è questa, sentite. Preferiva essere virtuoso che parerlo, e di questo passo quantomeno inseguiva la gloria, tanto più essa lo seguiva. In latino il testo alla lettera dice così. Esse, quam videri, bonus malebat. Ita, quominus petevad gloriam, iom agis illum asseque batur. Molto bella soprattutto la prima frase, che è una sorta di sentenzia, no? Di motto proverbiale. Esse, quam videri, bonus malebat. Alla lettera, preferiva essere onesto, virtuoso, piuttosto che sembrarlo soltanto. Come dire, la concretezza è meglio dell'apparenza. Concludo con un'ultima considerazione. Sallustio, dal punto di vista politico, aveva le idee chiare. E in questo dualismo fra sinistra e destra, fra populares da una parte, la sinistra, e optimates dall'altra, la destra, aveva scelto il primo dei due partiti, o meglio, la prima delle due faziones, delle due fazioni. Lui apparteneva sicuramente allo schieramento di sinistra, quello di Cesare, quello dei popolari. Tuttavia è anche uno storiografo, è uno storico, e negli ultimi anni della sua vita, questa è la sua occupazione principale. E nel momento in cui fa lo storico, deve cercare di essere oggettivo, il più possibile imparziale e distaccato da ciò che sta raccontando. Evidentemente lui stava dalla parte di Cesare, avrebbe preferito che le cose fossero andate diversamente. Tuttavia da storico deve limitarsi a raccontare come le cose sono realmente andate. E dunque, in questo caso specifico, fra la sinistra di Cesare e la destra di Catone, a vincere sarà per l'appunto Catone e la sua fazione. E i catilinari verranno condannati a morte senza il diritto di appellarsi al popolo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione a questo video e anche ai due dei giorni precedenti sullo stesso argomento. Ringrazio tutti, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se volete farlo iscrivetevi al mio canale e come sempre ci diamo appuntamento al prossimo video. Buona giornata a tutti. A presto!